La passione degli italiani per il calcio ha un gusto speciale. È il gusto del bar pieno per la partita. Il gusto di esultare per un gol e di sentirsi tutti allenatori. Il gusto di riempire le strade per tifare. È quello di mille emozioni. Il gusto dei festeggiamenti in centro dopo una vittoria e di condividere un momento magico. Il gusto di tifare insieme. Grazie.